Questo umile lavoro. Io sono un'operatrice ecologica e anche se a me piace per molti aspetti questo umile lavoro, all'inizio me ne vergognavo e ancora oggi in alcuni casi me ne sono vergognata. Fino a quando ho incontrato per caso, ma il caso non esiste. Mentre spazzavo una via della periferia di Roma, un signore distinto, che dopo poche battute sulla sporcizia della città e il poco apprezzamento dei cittadini per noi lavoratori dell'immondizia, mi disse «Non ti curare di come ti vedono. Sappi che il tuo lavoro è paragonabile a quello di un medico, perché pulisci e curi le ferite della collettività e a quello di un insegnante, perché educhi alle regole della convivenza». Sii fiera, perché per la legge divina anche tu contribuisci a migliorare la collettività. Ci siamo salutati e le parole di quel signore mi sono rimaste nel cuore. Grazie serena.